Puntare sui giovani non è uno slogan, ma ciò che la Regione Puglia sta facendo con principi attivi e bollenti spiriti. Lo ha ribadito l'assessore regionale alle politiche giovanili Nicola Fratoiani, presentando con Annibale Delia dello staff Bollenti Spiriti il piano di attività per il 2012 e tracciando anche un bilancio sul lavoro già svolto. Per quanti volessero usufruire dai finanziamenti regionali, l'occasione rappresentata da Bollenti Spiriti Camp, che si svolgerà a Lecce dal 31 maggio al 2 giugno, una tre giorni dedicata alle idee e ai progetti dei giovani pugliesi e al futuro della Puglia. In quell'occasione, sempre nel corso del Camp 2012, presenteremo il nuovo principio attivo, quello del 2012. Appunto ogni due anni lo facciamo, 4 milioni di euro di finanziamento, altri 160 progetti pronti ad essere finanziati. I tempi? I tempi li presentiamo nel Camp del 2012, quindi tra il 31 maggio e il 2 giugno presentiamo il bando, il bando sta aperto per 4 mesi, la procedura sarà tutta elettronica e quindi alla fine dell'estate, chiudendo il bando, comincia la procedura di valutazione. E come dice l'assessore, chi ha un'idea non perda tempo. Per esempio i giovani dell'Associazione Culturale e Turistica Monti Dauni e dell'Associazione su due pedali. Il progetto finanziato invece sempre dalla Regione Puglia, per quanto vi riguarda, che cosa ha previsto? Allora, la costituzione è di un'associazione di promozione sociale, la cui per la maggior parte dei soci si tratta di ospiti di comunità psichiatrica, quindi sono dei pazienti che hanno scritto, partecipato e vinto al progetto Principi Attivi, hanno messo su delle ciclostazioni. Che sono le ciclostazioni? Le ciclostazioni sono degli spazi ciclistici, diciamo, alternativi. Grazie.